Il Planetario di Palermo, in collaborazione con Villa Filippina, ha creato una sinergia di attività che permetterà ai bambini di essere protagonisti la mattina con l'attività del Winter Time, quindi i laboratori scientifici che stiamo facendo in collaborazione con l'INAF, Osservatorio di Palermo, mentre dal pomeriggio, ogni pomeriggio, avremo dei laboratori con associazioni differenti, da Palermo Bimbi ad Astrid, al Triato degli Spiriti e quindi avremo Teatro delle Marionette, nel fine settimana e durante la settimana si alterneranno le varie associazioni per proporre sia laboratori artistici che laboratori creativi e scientifici, quindi diciamo che i bambini avranno la possibilità di mettersi alla prova sia dal punto di vista artistico creativo che dal punto di vista scientifico, quindi un modo nuovo di proporre un villaggio natalizio. I genitori li lasciano qui da noi e noi facciamo fare anche degli esperimenti che riguardano sia l'astronomia, che è la chimica, che è la fisica, quindi materie appunto prettamente scientifiche e anche in questo caso poi c'è una parte dedicata al gioco e anche una parte dedicata appunto alla realizzazione di manufatti o comunque di esperimenti che fanno proprio loro stessi, quindi loro sono i principali protagonisti di queste attività. Facciamo per esempio realizzare, qua ci sono appunto alcuni esempi di laboratori come il disco di Newton, quindi per spiegare anche fenomeni che riguardano la luce, delle lanterne luminose dato che siamo anche in periodo natalizio, quindi che riguardano invece le comete, oppure le costellazioni, insomma anche delle sfere per esempio che facciamo colorare con i colori appunto dei pianeti, quindi una serie appunto di laboratori tutte a tematiche scientifiche. Allora qui i bambini verranno a costruire un piccolo gadget che sono delle attività, un gadget che risale all'attività che facciamo con il Museo per le famiglie, queste attività che vengono svolte durante i sabati, l'attività di museo in gioco. Oggi ad esempio, anche se non è in tema natalizio, una delle attività che facciamo è quella di la costruzione di una tartaruga partendo da fogli stampati, loro coloreranno, ritaglieranno e questa tartaruga assumerà poi un aspetto tridimensionale, in modo tale che comunque avranno qualcosa da portare a casa. Costruiscono anche delle lanterne che riguardano diciamo lo studio della gravità, quindi facciamo ritagliare delle stelle comete, le facciamo lavorare con la carta pesta e comunque noi facciamo delle piccole nozioni basilari sul sistema solare. Ci saranno degli operatori che sono Cristiano e Francesco che parleranno del Sole e di tutto il resto dei pianeti. Li faremo anche entrare al planetario con delle visite guidate per quanto riguarda le stelle e le costellazioni. Grazie a tutti.